Passo in avanti per la riapertura dei tribunali chiusi dopo il decreto legislativo del 2012, che aveva portato ad un taglio consistente di strutture giudiziarie, compresa quella di Vigevano, penalizzando cittadini ed imprese. Nella Commissione Giustizia del Senato sono iniziate le audizioni per il disegno di legge che modificherebbe la riforma della geografia giudiziaria. Il testo prevede la possibilità per le regioni di richiedere al Ministero di Giustizia il ripristino dei tribunali in alcuni territori delle province. Alessandra Cappellari, consigliere regionale della Lega, nel corso dell'audizione ha parlato anche del tribunale vigevanese. Vigevano, nella nostra, citava prima la senatrice Stefani, Vigevano è stata l'unico ordine che ha partecipato alle nostre audizioni e che insiste, ovviamente, secondo me ha ragione, ancora molto sulla necessità assoluta di portare avanti questo progetto di riapertura della sede di staccata. Le località che vedrebbero riaprire le strutture giudiziarie dovranno possedere determinati parametri, come estensione geografica in rapporto al numero degli abitanti, il tasso di densità delle imprese, le infrastrutture e i trasporti, i flussi dei procedimenti e i carichi di lavoro degli uffici giudiziari. Se le strutture verranno riaperte, le spese di gestione e di manutenzione degli immobili spetteranno alla Regione, mentre quelle relative alla ritribuzione dei dipendenti saranno di competenza statale.